Poi Verna non calcia perché Cinelli li passa davanti, Sounas, Van de Putte, 1-2 che riesce, Sounas all'interno dell'area per l'illustrissimo Pietro Iemmello che fa 2-0 per il Catanzaro. E dunque prima doppietta in casa per Pietro Iemmello dopo quella arrivata a Foggia, su di gol, Pietro Iemmello trascina i suoi compagni, tocco di Sounas, geniale. Il taglio di Iemmello che anticipa secco il suo diretto avversario, nulla da fare per Zamarion. Catanzaro 2, campo basso 0, al cinquantottesimo minuto di gioco.